Ciao beautine, bentornati in questo nuovo video allora oggi mi propongo questo look occhi uno smokey eyes su toni caldi quindi del giallo, l'arancione e oro look bello strong che mi ricorda tantissimo il tramonto direi quindi di non perderci in chiacchiere e partire subito con il tutorial e iniziamo come mio solito ad applicare lo scotch alla fine dell'occhio il correttore su tutta la palpebra e l'ombretto bianco opaco sotto l'arcata sopraccigliare e nella piega dell'occhio creo una prima sfumatura piuttosto leggera utilizzando questo ombretto sabbia molto molto chiaro nella piega dell'occhio intensifico la sfumatura nella piega dell'occhio con l'ombretto giallo sempre nella piega dell'occhio applico l'ombretto arancione termino applicando sempre nella piega dell'occhio questo ombretto marrone con sottotono caldo sulla palpebra mobile e successivamente lo vado a sfumare bene nella piega dell'occhio applico questo ombretto viola bruciato molto 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 scuro sulla palpebra mobile vado ad applicare un po' di ombretto in crema dorato e successivamente al di sopra ci applico l'ombretto sempre oro creo un punto luce nell'angolo iniziale dell'occhio con un illuminante oro realizzo la mia riga di liner nera e rimuovo lo scotch all'attaccatura delle ciglia inferiori vado ad applicare rispettivamente l'ombretto sabbia molto chiaro l'ombretto giallo, l'arancione, il marrone con sottotono caldo e termino applicando l'ombretto viola bruciato la mia riga di liner nera e inferiore superiore dell'occhio applico la matita nera che vado a fissare come al solito con l'ombretto nero e termino il glucocchio applicando abbondante mascara sia sulle ciglia superiori che inferiori dell'occhio e questo è il tutorial terminato io spero che vi sia piaciuto ovviamente lasciatemi un like se è così e noi ci vediamo nel prossimo video ciao beautine ciao